Il nuovo magazzino del prodotto finito è dotato di ampie aperture sul soffitto per garantire illuminazione zenitale e naturale controllo della temperatura in un'ottica di risparmio energetico e rispetto dell'ambiente. Ora, davvero il nostro caffè è pronto per arrivare dai nostri amati clienti, di cui circa il 55% oltre confine, i quali saranno gli ambasciatori della qualità del nostro prodotto e i responsabili della trasmissione, della nostra passione, ai fruitori finali. Proprio per questo l'azienda offre costantemente supporto e collaborazione attraverso l'opportunità di frequentare corsi di formazione a vari livelli, con l'obiettivo di una crescita condivisa sia nella qualità che nel servizio. Formiamo circa mille clienti appassionati ogni anno, in tutto il mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un costa d'oro. Grazie a tutti.